musica 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 where you wanna go my brudas buon pranzo dobbiamo andare tu brother allora andiamo tilted perchè sono triggered o el8 il mesampo el8 vabbè ma che cazzo te ne frega ma che cazzo te ne frega scendi scendi scendiamo morti o meno ma va c'è quello dei fanatic chi è? e ti senti morto chi è quello dei fanatic ma chi è quello dei fanatic ma uno che si chiama calandrelli un moncas moncas ma ti ricordi quando c'è la moda del moncas del buffo oddio scendo c'ho il p90 aaaah dov'è la gente? dov'è la gente? dai sono uscito tutto incazzato sul balcone chi è? beccate questo aaaah feels good boys feels good feels good finanti come scendi aspetta sono all'appartamento centrale oh che cazzo ho sparato tu? no 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 ti ho sparato mi arrivo salve lo stai rimando dove devo andare? che cazzo è? andiamo alla c ah ma è in cima in cima a quella merda di slot non ho niente da prenderlo c'ha 45 hp in meno fa culo io gli vado a tirare giù tutto aspetta gli vado a tirare giù tutto ok? vai 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 perchè non mi fa muovere e non ho niente da questo vado te l'ha tirata lui? si si io dovrei essere safe si? ah porco due si ci sono due anche alla c niente muoie i spoiler fredd via dal muro infatti io ci sono arrivato c'è tipo laser però no no vabbè mi è arrivata una granata che non ho la più fallire idea da dove mi ha preso il range aspetta sei allacchissimo qua sei eh? eh non lo so non lo so potete dire sei allacchi come la merda che devo farti? ma tu non lo vedevi che stava pushando? mi stai drenando la skill mi stai drenando eh no il p90 è il p90 giusto è la ruba è come i monster oh ritiramelo se le balle un giorno riuscirò a fare la sfida però non è questo il giorno oh che paura aiuto no no il sniper questo verrà come uno sniper oh che paura oh che paura oh che paura oh che paura soggo 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 ma è mai possibile che sta bene this arm veramente comunque la mettono e fa sempre danno soggo ma chi è quella bestia di satana che gli ha venuto in mente di fare quest'arte such skill aspetta ma quanta gente sono cosa sono un po' teto cosa ammazza la picconata no non mi ferire sono dei sentimenti pure io ho capito stavo a sparare col pompa ma tutti da te stanno fammi capire su se l'ho preso sta arrivando pure uno da dietro non lo so per la montagna ehi su gabrie frie frie ehi su gabrie che cazzo è la festa senza di me va bene costruiamo un mostro frie frie BLEA SOGA BLEA SOGA SOGA BLEA DRAGOSTEA DIN TEI Spero è un po' troppo facile così Sì ti giuro ti dico SOGA BLEA 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 DIN TEI SPOLERATO ragazzi FUUUUUCK FUUUCK LA ZONA FUFUFUFUFU Aspetta Sì dimmi se vedi nemici eh perchè io c'ho il bug ma ancora tu non l'hai ristallato il gioco? già fatto, più e più volte e niente? niente ho provato a riaggiornare i driver perchè è strano cioè non me l'ha mai dato sto bug guarda, no non è vero, ora non me lo fa rush biii dragostea d'intel quando te c'è a dimitri là sopra privietti c'è dimitri lì? fai il check alla russia si 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 ah che troia oh rush biiiis scaplietti tu pensi che io offri dei colpi ok dietro 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 verso al posto di over russi 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 eo che te devo di? prusia aspettate aspettate che ritorno eh arrivo mi devo prendere l'agground io così poi gli sparo da dietro aspettate 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 un o cristo Cosa è? Cosa è? Non volevo farlo col pompa Dov'è Dragostea d'Intei? Sotto? Ok ho fatto Dragostea d'Intei Non volevo farlo col pompa, volevo ricaricare e uscire Tanto ho visto che era babbo Ragà fa schifo il pilone Un'arma di merda Cazzo serve? Non serve a niente Sai quelle armi inutili Che fanno Tipo il Tipo privietto What? Era bello arrabbiato lui Ha cliccato fortissimo Eh ha premuto un botto forte il tasto e si è sentito Senti io il pompa tanto non lo sto utilizzando Ha preso la rincorsa Uuuu 4p90 C'ho 3p90 C'ho 3p90 ora New meta Che ne pensi di questo nuovo meta? C'ho 3p90 C'ho 3p90 C'ho 3p90 C'ho 4p90 C'ho 4p90 C'ho 4p90 C'ho 4p90 C'ho 3p90 C'ho 3p90 C'ho 4p90 C'ho 4p90 C'ho 4p90 Vai Traizer Manca lui la mia meta dal double pump al triple p90 ragazzi sono piegati tutti questi a 90 come il p90 vabbè